Due feriti e il bilancio di un incidente avvenuto a Schio, in provincia di Vicenza. In via Baccarini, nei pressi della stazione ferroviaria, due auto si sono scontrate frontalmente. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati impresi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferiti con due ambulanze al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto per i rilievi dell'incidente, i carabinieri e la polizia locale.